Questo tutorial vi dimostrerà come uno studente può condividere ciò che vede sul proprio schermo con tutto il resto della classe. Questo permette di dimostrare all'insegnante il suo lavoro o presentarlo velocemente e facilmente alla classe proprio dal loro computer. Dalla console dell'insegnante selezionate il computer dello studente con cui vuoi condividere. Poi clicca il pulsante della barra degli strumenti Show Student. Lo schermo di quel computer apparirà immediatamente sugli schermi di tutti i computer nella classe. Lo studente scelto manterrà il controllo del proprio computer e tutto quello che farà sul suo schermo sarà visibile da tutti gli altri studenti. Gli altri computer della classe saranno bloccati, mentre è nata la presentazione. Per stoppare la condivisione dello schermo dello studente basta semplicemente premere di nuovo il pulsante Show Student. Lo schermo condiviso non sarà più visibile e i computer degli altri studenti saranno sbloccati e potranno ritornare a tutte le loro funzionalità. Così si conclude questo tutorial su come mostrare lo schermo degli studenti. Trovi altri tutorial come questo e altre guide di supporto sul nostro sito www.landschool.com